Se non siamo certi di morire finché avverrà, non ci sono dubbi, per tutto il tempo che ci rimane, l'unica possibilità che abbiamo è vivere, vivere, dobbiamo vivere, è una sorta di condanna a vivere o da assi, vivere una condanna. L'altra parte è una condanna che ci fa meno paura che quella di morire. Allora questa condanna è una condanna che ci richiede di dare un viso, di dare un volto alla sua possibilità. Vivere è una possibilità e la possibilità è che qualche cosa venga alla luce. Vivere è una nascita continua, non è la sola nascita della vita, ma la nascita della vita, diciamo l'origine della vita è una continua origine. In questo vivere allora la condanna è la possibilità di far rinascere continuamente le possibilità stesse della vita, continuare a far rinascere il potenziale stesso della vita. Non ci sono dubbi, questo per tutto il tempo ci rimane. Grazie a tutti.